Bilancio più che positivo quello delle eco-isole installate dal comune di Teramo nelle proprie frazioni. Nel primo mese dalla realizzazione di questa nuova modalità di conferimento dei rifiuti urbani, la raccolta differenziata fa registrare un balzo in avanti di quasi l'80% in questi paesini decentrati. Soddisfatta l'assessore comunale a ramo Martina Maranella, che ricorda all'utenza il corretto utilizzo delle eco-isole. Va molto bene, è un sistema che nonostante le resistenze iniziali, prima ancora dell'avvio, infatti in tutti gli incontri che ho avuto con le frazioni ho sempre cercato di sottolineare l'importanza di partire per poterne capire la reale potenzialità, sta andando molto bene. Stiamo raggiungendo delle percentuali mai viste sul comune di Teramo, ci aggiriamo intorno all'80% di raccolta differenziata e la popolazione l'ha presa effettivamente come un vantaggio e non come una costrizione. Questo perché? Perché tutte le porzioni di prodotti che possono essere differenziati si possono buttare in qualunque momento della giornata anche più di una volta al giorno, quindi liberandoci di fatto gli appartamenti da quelli che sono i nostri rifiuti prodotti, con l'unica eccezione dell'indifferenziato. L'indifferenziato per cui in questa fase di sperimentazione cerchiamo di capire se è possibile rimanere all'interno dei 26 conferimenti, per cui noi consigliamo l'esposizione con il mastello taggato, ma se si dovesse andare nell'ecoisola l'importanza è di rimanere negli stessi volumi del mastello. In questo primo mese di ecoisole nelle frazioni di Teramo, non tutti però rispettano il giusto conferimento dei rifiuti, forzando addirittura la struttura e danneggiandola. Nel weekend abbiamo avuto un problema nell'ecoisola di Nepezzano. Un signore, non credo per dolo, suppongo per colpa, ha erroneamente buttato, forzato il bidone dell'indifferenziato perché il suo rifiuto era più grande rispetto a quello che poteva contenere. Questo ha recato un danno all'ecoisola stessa. Chiaramente, proprio perché è stato identificato, sarà lui a ripagare il danno apportato, ha recato all'ecoisola, però è importante che anche quando si usa per l'indifferenziato si cerchi di riuscire a mettere il meno possibile nell'indifferenziato perché se noi ci pensiamo la gran parte dei nostri rifiuti è plastica e organico. per cui si può fare, si può andare all'ecoisola, si deve considerare come un'opportunità, si può andare in qualunque momento e in qualunque giorno.